Per una volta la nostra provincia si è presentata unita ad un appuntamento importante. Era quello molto delicato della partita della gestione dei rifiuti. Se n'è parlato diffusamente oggi, a pochi giorni, dalla Costituzione della società Bellunum Holding, che ha in sé, oltre a Bellunum, i tre gestori provinciali Ecomont, Valpia Ambiente e Ponte Servizi. Se n'è parlato in un convegno alla Carpenada di Belluno con i maggiori esperti della materia. Moderatore, il professor Stefano Pozzoli, che ne ha seguito il complesso ITER. La base di partenza era un territorio diviso, diciamo di dimensioni abbastanza limitate, 200.000 abitanti circa, diviso su quattro società, con una normativa nazionale che impone l'affidamento unico. Quindi questo era il rebus da risolvere. Cosa abbiamo scelto di fare? Abbiamo conferito le tre società più piccole alla società maggiore, quindi un criterio oggettivo. Ce n'è una più grande e tre più piccole. Queste tre diventano socie, società che hanno partecipato al 100% dalla Bellunum, da qui Bellunum Holding. Chiaramente detto così è una cosa semplice, però ha significato trovare degli accordi, trovare un equilibrio fra gli ex proprietari delle varie società, tutti in un contesto normativo che impone determinate regole per le società in house, anche di governance, e in un contesto di sfavore nei confronti dell'in house. Quindi la scelta del territorio ovviamente, e quindi della politica locale, è stata quella di dire puntiamo a una società unica in prospettiva, quindi per ora restano le quattro società, ognuna continua a gestire il suo territorio, però avviamo un processo di unificazione sotto la rete protettiva di un affidamento che è stato dato e che adesso è consolidato di 15 anni. Ha visto una partecipazione attiva o passiva degli attori? Sorprendentemente attiva, cioè dopo le perplessità iniziali che c'erano, perché ognuno perde sovranità, però sia dal punto di vista della politica, sia, cosa ancora più rara, dal punto di vista delle società, c'è stata molta disponibilità a collaborare a questo progetto. La nostra emittente ha registrato l'intero convegno e a breve verrà proposto uno speciale dedicato al tema.